Tutto un pomeriggio di alta tensione prima di poter definire chiusa l'emergenza piena dell'Adige. Previsioni che hanno allungato di ora in ora il termine collocato poi verso le 18 per dichiarare fuori pericolo di esondazione la città di Verona. Il corso del fiume ha tenuto con il fiato sospeso due regioni ma sposta ora l'attenzione nei territori dove l'Adige si dirige verso la foce dell'Adriatico in condizioni di vento però diverse dal lungo fine settimana di abbondanti precipitazioni. L'apertura della galleria Adige Garda a Torbole dove sono stati fatti defluire grandi quantità di acqua fluviale nel lago dando così maggior respiro alla piena dell'Adige che aveva già passato Trento senza uscire dagli argini. A Verona il provvedimento è servito già dalla notte a far abbassare i livelli record registrati in vari punti del capoluogo. 4,80 m a Ponte San Lorenzo o 1,94 m sopra lo zero idrometrico a Ponte Nuovo. Solo Ponte Pietra è stato però interdetto al traffico che nel suo caso è pedonale. Gli altri punti sono stati tutti presidiati da un centenario di volontari della protezione civile coordinati dall'unità operativa provinciale e dalla polizia municipale di Verona. Il monitoraggio costante ha portato alla chiusura momentanea in mattinata di lungadige a Tiraglio e ai provvedimenti temporanei di limitazione del traffico per l'ospedale di Borgo Trento, a Castelvecchio, alle basse di San Michele, nonché a Boschetto e a Giarina. In totale una ventina di punti strategici dove la chiusura totale è stata indicata per il parco di Bosco Buri che è finito allagato e dunque inagibile. Grande l'impegno collettivo per superare momenti di vera e propria paura con le acque che minacciavano di superare da un momento all'altro il livello massimo. Per Verona il pericolo è momentaneamente scampato, la prensione passa ora nella bassa ma con la consapevolezza che le misure messe finora in atto abbiano aiutato l'abbassamento della portata di acque, ora decisamente più vicine all'arrivo in un mare adriatico più accogliente a causa del vento meno minaccioso rispetto a lunedì.